Si tratta dei mobili che sono stati sottratti a Tommaso Coppola, Liborio Pirrone, Vincenzo Piazza, Massimo Troia, Rosario Espostu e Giuseppe Gregoli. Alla cerimonia che si è svolta al Residenz XIARE di Valderice erano presenti tra gli altri il direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, Umberto Postiglione, il prefetto Leopoldo Falco, il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, Piero Grillo. Gli immobili sono stati affidati ai comuni di Calata, Finisse, Gesta, Marsala, Mazera del Vallo, Valderice, Castelvetrano, Paceco e San Vitolo Capo. Io ho fatto una proposta per tutte le aziende soprattutto, perché gli immobili bene o male restano, ma per tutte le aziende che sono attività organizzate bisognerebbe fare immediatamente un esame da parte di un gruppo di esperti da istituire presso la Corte d'Appello competente per territorio, che valuti sulla base di tutta una serie di elementi che dovrebbero raccogliere gli investigatori volti a fare un quadro dell'attività sulla quale adesso stiamo operando e che ci consenta di dire si tratta di una cosa seria o si tratta di qualcosa che è stato costruito esclusivamente per delinquere. Se è costruito esclusivamente per delinquere, a mio avviso, va immediatamente chiusa, così si evita di spendere soldi che magari sono stati confiscati quando è stato preso questo bene nel tentativo impossibile di far funzionare quella cosa come se il passaggio in mano alla criminalità che l'ha creata male non sia mai esistito. Quelle risorse potrebbero invece essere spese per avviare progetti nuovi che possono essere studiati in sintonia maggiore con il territorio. In Sicilia bisogna fare essenzialmente attività di accoglienza, turismo, è meglio che ce lo mettiamo in destra perché tante altre cose magari non riescono perché non ci sono le condizioni. Com'è possibile che hanno gestito bene questo posto? L'anno scorso hanno fatto 300 mila euro di utili e allora se chiudiamo qualcosa ne apriamo un'altra magari proprio in questo settore e facciamo lavorare la gente, facciamo lavorare le persone per bene individuate all'interno del parco dei dipendenti dell'azienda confiscata che va chiusa e recuperiamo il lavoro per quella gente che è gente per bene e non facciamo un danno alla società. Grazie a tutti.